E' un Natale diverso ma con gli amici di sempre, questo è il titolo che abbiamo voluto dare al nostro Natale, questo Natale 2020 che viene alla fine di un anno molto particolare in cui la nostra vicinanza ai poveri si è dovuta rafforzare e è diventata tale grazie anche al contributo di tanti e la testimonianza l'abbiamo stamattina che con Confesercenti ci hanno donato le lasagne che domani arriveranno ai senza fissa dimora della nostra città che in questo momento sono anche aumentati e mi sentirei di dire grazie di cuore a tutti i ristoratori che hanno contribuito a questa iniziativa proprio perché è un momento particolare per tutti, per loro ancora di più, dato che sono chiusi in questo momento ma hanno messo al servizio dei poveri il grande cuore che ci testimonia che soltanto insieme possiamo superare questo momento. E' necessario poter stare a fianco alle persone che ne hanno bisogno, è necessario poter dimostrare che i ristoratori che stanno vivendo in un momento di grande difficoltà sono chiusi da oltre due mesi, non incassano denari ma nel momento in cui abbiamo chiesto la loro partecipazione non hanno fatto mancare il loro supporto. Noi dalla Campania abbiamo portato avanti questa iniziativa, parte dalla Campania, Napoli, Roma e Milano offrono oggi 6.500 lasagne ai fratelli più bisognosi della comunità di Sant'Egidio. Grazie Grazie Grazie